Lavello, Bitonto, Cerignola e Casarano. Due di queste quattro continueranno alla stagione del girone H di Serie D nei play-off. L'ultima giornata sarà decisiva per assegnare i piazzamenti ancora vacanti degli spareggi promozione. L'unica sicura del posto in realtà è la Fidelisandria, matematicamente terza, mentre il secondo posto andrà ad una tra Taranto e Picerno, in lotta ancora per la promozione diretta. Il caos play-off però riguarda quarto e quinto posto. Al momento la classifica premia Lavello e Bitonto. Lucani a 54 punti e con il match casalingo contro il Taranto all'orizzonte per decidere un intero campionato. Neroverdi a quota 52, gli stessi del Casarano, con i salentini in svantaggio negli scontri diretti. Più staccato il Cerignola a 49 punti, che però può ancora sperare in una clamorosa qualificazione da quinta in classifica. A Lavello basterà un punto per qualificarsi ai play-off. In caso di vittoria di Bitonto e Casarano e pareggio dei gialloverdi, la classifica a Vulsa premierebbe la squadra di Zeman, comunque quarta in classifica, e quella di Loseto, lasciando sempre fuori i rosso-azzurri. Al Bitonto quindi basterà vincere contro il Fasano o comunque ottenere lo stesso risultato del Casarano a Pozzuoli per qualificarsi agli spareggi, a meno che non perdano sia Bitonto che Casarano con una contemporanea vittoria del Cerignola. Gli ofantini sono ancora la variabile impazzita dell'ultima giornata. Contro le squadre a 52 punti sarebbe la squadra di pazienza a centrare il quinto posto alle spalle del Lavello, grazie ad una differenza reti negli scontri diretti che premierebbe il giallo-blu. L'audace affronterà in casa il Nardò, sempre a 49 punti, ma già matematicamente fuori dai giochi per gli scontri diretti sfavorevoli contro il Bitonto. Difficile però pronosticare una sconfitta dei neroverdi contro un già salvo Fasano e quella del Casarano sul campo della già retrocessa putiolana. Con due vittorie, le attuali quinte del Girone H metterebbero alle strette il Lavello, che in caso di contemporanea sconfitta in casa contro il Taranto, non solo lascerebbe la zona playoff al fotofinish, ma assegnerebbe anche la promozione in Serie C agli Ionici, domenica tutto il campionato o quasi passata Benosa.